Ok, ok, questo pezzo è quasi, cioè l'importanza di questo pezzo è un pezzo quasi un... No, niente, ce la faccio. Eh, se la caggierne, scuite, se c'ha duro un po', eh, so ti mostro per ieri un po' mezzo. Stavo dicendo, è quasi un pre-serale, è talmente importante la costruzione, l'idea e anche il cantante dal vivo, è quasi, capito?